Ciao ragazze, ciao ragazzi, top, benvenuti in un nuovo vlog, siamo qui a fare colazione che poi dobbiamo andare a fare un po' di commissioni, vi faccio vedere Miamore Mie del caffè La mia suocerina Cos'è, caffè macchiato o marocchino? Marocchino E io cappuccino di orzo Sto trascinando la mia suocerina Aspettate prima faccio vedere il particolare, fai vedere Cerchiette di allocchietti Non è l'amore Stiamo andando, dillo tu dove stiamo andando Non mi ricordo Duomo Da, adesso lo vedrete nel vlog dove stiamo andando Top Arriva Arriva, arriva Ma guardate che carini Questi letti in miniatura, sono veramente piccoli, guardate la mano Sembrano i letti della Barbie Carini A me sono detto che sono i letti Si Che Ho 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.